incendio con nube tossica nella zona del porto di napoli intervento di vigili del fuoco non si ne comprende ancora la natura siamo qui a documentare l'incendio è successo verso le 6 e meno 20 stamattina hanno applicato quattro focolai dove c'era tutto il possibilità bruciare pneumatici materassi elettrodomestici smantellati tutta la spazzatura che man mano che vi adesso state vedendo questo era un morto annunciato la faccia d'ossa che si è presentato il vice sindaco di napoli sodano sul morto noi stiamo piangendo un morto quello che volevano è successo ora il parco della marinella è in queste condizioni noi dobbiamo dire grazie a sodano ea dei macisti e sul morto vengono tutti quanti a piangere stanno carabinieri gruppo forestale ministeri prefettura che hanno solo fatti dei protocolli ma non hanno mai avuto la la bontà la gentilezza l'onestà di scendere in piazza di rivicina questa amministrazione comunale cosa cacchio state a fare questa è una bomba ecologica è il 25 a piazza dando lo ribadiamo è uno schifo sono loro che ci stanno uccidendo ci stanno bruciando vivi a noi e ai nostri figli sono dei bastardi bastardi bastardi